saluti a tutti voi vi auguro di alietare questo anniversario con i grandi vini italiani più di due secoli fa thomas jefferson il vostro terzo presidente grande appassionato di vini giunse in italia e scoprì il piacere e la prelibatezza del nebbiolo padre dei grandi vini piemontesi il barolo il barbaresco il gattinara non scoprì tutto il resto perché non ebbe in modo di trascorrere il suo tempo nella nostra bella patria oggi facilmente potete trovare i vini di ogni regione d'italia che grazie alla loro biodiversità portano sulle vostre tavole il piacere e la gioia della dieta mediterranea che nei momenti conviviali associa il vino con le prelibatezze alimentari esaltando nel gusto unendo curiosità generando un piacere condiviso concedendo finalmente un sano momento di spensieratezza auguri auguri